Dalla sua cella del carcere Due Palazzi, dove ha rinchiuso dal febbraio del 2016, Freddy Sorgato ha scritto una lettera al quotidiano Il Gazzettino, dove si professa innocente e vittima della giustizia. Due pagine in cui dice che Isabella Noventa non è stata uccisa nella sua villa e che la donna è sparita per sua volontà, a causa dei tanti debiti contratti dalla sua famiglia. Lui dice questo, afferma questo, non avevamo grossi problemi neanche prima, e non è scappata mia sorella. Mia sorella è stata uccisa, l'ha ammesso e adesso sta ritrattando quello che ha ammesso in precedenza. È folle. Dunque per Freddy Isabella è ancora viva, nascosta da qualche parte e la confessione della tabaccaia, ex complice Manuela Cacco, che lo accusa insieme alla sorella Deborah dell'omicidio, non sono attendibili, visto che in passato la donna era stata denunciata per stalking e simulazione di reato. Il ballerino camionista, inoltre, si dissocia dalle due pistole e dai 124 mila euro trovati nella casa dell'ex carabiniere, compagno della sorella Deborah. Nella lettera non emerge nessun pentimento, anzi si professa vittima della giustizia. Insomma, per la famiglia della segretaria di Albignasego, ancora un duro colpo da digerire e le speranze di poter ritrovare il corpo della loro cara si effevoliscono sempre di più. Mi sembra stia rasentando la follia ormai, questa lettera non giova né a lui e tanto meno a noi, specialmente a una mamma che aspetta risposte ben diverse. Secondo me, se avessi mandato una lettera con le scuse, con la verità, avrebbe fatto del bene a noi e avrebbe fatto del bene anche a se stesso, perché penso che un giudice di sorveglianza possa tenere in considerazione un sincero pentimento. Mia madre sta soffrendo e queste cose qua sono delle pugnalate ulteriori che sta dando. Nel frattempo, mentre in carcere sta scontando la condanna a 30 anni per l'omicidio e l'occultamento di cadaveri di Isabella Noventa, emergono nuove accuse per Freddy Sorgato. Il camionista ballerino, nuovamente indagato, secondo un'informativa del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova, avrebbe rubato gasolio ai suoi clienti abituali per poi rivenderlo in nero. Tarava in modo impreciso il macchinario per sversare il gasolio, riuscendo così a sottrarne una parte che rivendeva poi a clienti fidati, un sistema che durava da decenni. In questo modo, Sorgato riuscì a comprarsi la villetta di Noventa Padovana, costata 230.000 euro e pagata in tranche da 25-30.000 euro al mese, in tagli da 50-10 euro.